La scomparsa di Mirella Gregori, la sorella, riaprite l'inchiesta come fatto per Emanuela Orlandi. La scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, rivelazioni importanti sono state fatte a crimini e criminologia su Cusano Italia TV da Maria Antonietta Gregori e dal suo avvocato Nicodemo Gentile. Intervistata da Fabio Camillacci e Gabriele Rao, la sorella di Mirella Gregori ha detto «Ci sono dei punti fondamentali legati alla scomparsa di mia sorella che tendono a portare alla riapertura dell'inchiesta. Io non capisco perché la procura di Roma non li abbia ancora presi in considerazione. Per questo, con il nostro avvocato Gentile, stiamo lavorando ad un memorandum di cose che a breve dovrebbe portare alla riapertura dell'inchiesta. La soddisfazione per l'istituzione dell'apposita commissione parlamentare». A tal proposito, la sorella di Mirella ha detto «Sono contenta che sia arrivato anche il sì del Senato perché per noi ormai è l'ultima speranza e l'ultima spiaggia. Personalmente ho grandi aspettative sul lavoro della commissione. Anzi, lancio un appello a coloro che ne faranno parte. Io sono disposta ad essere subito ascoltata per aiutare a capire che fine ha fatto Mirella. Credo sia importante ascoltare Sonia De Vito del bar sotto casa nostra su Viano Mentana perché Sonia è l'ultima persona ad aver visto Mirella prima della scomparsa, è l'ultima persona ad aver parlato con mia sorella per ben due volte, prima di salire a casa e quando è riscesa dopo la citofonata del fantomatico Alessandro. Il fulcro della storia è tutto lì ed è da lì che bisognerà ripartire.